Il buon ronino di marcia delle ultime settimane condito dal punto in trasferta raggranellato nel recupero infrasettimanale in quel di penne ha consentito alla Virtus Cupello di rientrare prepotentemente in corsa per i discorsi d'alta quota ai quali è interessato sicuramente anche il Delfino Curi Pescara, avversario odierno dei rosso-blu di Carlucci che hanno un punto in meno rispetto ai Virtusini ma anche una gara in meno quella con l'Aquila che verrà recuperata il prossimo 23 marzo. Si tratta di un'occasione da non sprecare, discorso valido per entrambe le contendenti le quali vogliono agganciare la vicina zona nobile del torneo di eccellenza. Per una curiosa combinazione i due tecnici titolari non possono sedere nelle rispettive panchine occupate dai vice Capitoli e Spinozzi. Il pubblico presente sulle tribune non avrà modo di attenuare le temperature polari visto che non potranno scaldarsi con il bel gioco delle due squadre assolutamente inesistente nel corso della prima frazione con il nostro taccuino desolatamente immacolato fatta eccezione per segnalare un tentativo tutt'altro che velleitario del cupellese troiano da posizione estremamente periferica anche se ravvicinata che non riesce a chiudere l'ottima triangolazione con il suo compagno di squadra Colitto. La seconda frazione non sarà molto diversa anche se fortunatamente possiamo raccontarvi qualcosa di più concreto come ad esempio il destro dal limite di massa controllato piuttosto agevolmente dall'estremo di casa. Il rosso-blu del convalescente Carlucci creano una delle rare occasioni dalle parti del seminoperoso calore con l'avanzato Felice che prova a sfruttare le sue doti aeree sullo spiovente da fermo di Tafili ma senza esiti particolarmente deflagranti. Anche sull'altro versante si sfida la buona sorte su palle inattiva e in questo caso il siduro dal vertice d'area di Tamborriello rischia di far male con la sfera che si spegne di un niente oltre il primo palo. La truppa rosso-blu apparsa poco brillante e con scarso mordente avrebbe la possibilità di svoltare quando viene a trovarsi in superiorità numerica. E' il diciannovesimo infatti quando il pescarese Lupo, ammonito sette minuti prima, va a ricevere il secondo giallo consecutivo dopo il fallo ai danni del neoentrato napolitano che fa scattare in automatico il rosso che lo allontana anzitempo dal rettangolo di gioco. Stessa sorte che farà anche un componente della panchina pescarese, anche egli sanzionato col rosso ma per proteste. I tifosi di casa sperano a questo punto di vedere i propri beniamini in atteggiamento più propositivo ma le cose non vanno esattamente in questa direzione se si eccettua il tentativo di Felice che realizza ma in posizione irregolare. Saranno gli ospiti a non risentire affatto della carenza numerica in campo e riusciranno a tenere testa ai rivali senza correre grossi rischi e creando anche un paio di interessanti opportunità con Tanculic e con Tamborriello. Ma il risultato ad occhiali non si schioderà e alla fine entrambe le squadre pur senza strafare muoveranno le rispettive classifiche. Dopo partita in casa Coupello c'è il mister in seconda Walter Capitoli perché Panfilo Carlucci oggi è assente, è vero mister Capitoli? Sì, è assente, non si sentiva molto bene, è rimasto a casa. Per quanto riguarda invece la gara l'approccio non è stato particolarmente brillante della squadra che non è riuscita ad approfittare della superiorità numerica. Sì, vabbè, secondo tempo non siamo riusciti ad approfittare della superiorità numerica però all'inizio siamo partiti bene, poi peccato che si è fatto male subito Errag e siamo stati costretti un po' a mantenere, non andare, cioè lui non ce la faceva purtroppo. Il primo tempo è passato così e poi con le varie sostituzioni chi è entrato lo stesso non stava molto bene, insomma abbiamo avuto problemi di influenza che adesso gira però non Covid per il momento. Così come per la Virtus anche la Curi Pescara manca del tecnico in prima ma c'è il mister Spinozzi in sostituzione di mister Bonatti a commentare questa gara, un buon punto considerando come si erano messe le cose dopo l'espulsione. Beh sì, anche se dopo l'espulsione noi fondamentalmente non abbiamo rischiato niente, quindi c'è solo rammarico perché magari se rimanivamo 11 contro 11 la partita la potevamo portare a casa e con i tre punti forse ci toglievamo completamente dalla zona retrocessione. Ogni caso una stagione è ampiamente soddisfacente? Beh soddisfacente sotto molti punti di vista, magari sotto altri potevamo fare qualcosa in più perché visti come sono andati i risultati potevamo essere magari leggermente più messi meglio.